L'evento della Pentecoste segna la nascita della Chiesa e la sua manifestazione pubblica e ce ne colpiscono due tratti. È una Chiesa che sorprende e scompiglia. Lo ha detto Papa Francesco parlando ai fedeli in Piazza San Pietro prima della recita del Regina Celi. La Chiesa che nasce a Pentecoste, osserva il Papa, suscita stupore perché con la morte di Gesù sembrava tutto finito. Invece, grazie all'azione dello Spirito, i discepoli realizzano qualcosa di nuovo sulla scia degli insegnamenti del loro Maestro. Nasce la Chiesa. Da quel momento, che vale anche per noi, ha detto il Papa, la Chiesa deve essere capace di sorprendere, uscire fuori, inquietare le coscienze. La Chiesa nasce una e universale, con un'identità precisa ma aperta. Una Chiesa che abbraccia il mondo ma non lo cattura, come il colonnato di questa piazza. Due braccia che si aprono ad accogliere ma non si richiudono per trattenere.